Allora, le sono piaciute le parole di Giorgio Napolitano? Sì, mi sono piaciute, sono state chiare. Io penso certamente che tocchi alla politica dare una maggioranza stabile e coesa a questo Paese e credo che una personalità come quella di Monti possa essere ancora molto utile al nostro Paese. Senta, lei oggi ha detto che scommette su Monti al Quirinale. È un esorcismo per scongiurare il rischio di un Monti presidente del Consiglio? Ma, insomma, non ho detto esattamente così. Io non sono abituato a decidere per altri quali possono essere i mestieri. Io ho detto una cosa forse più chiara. Toccasse a me, il giorno dopo, le elezioni, vorrei parlare con Monti per capire quale possa essere dal suo punto di vista il contributo più utile che potrebbe continuare a dare al Paese. Ecco, se dopo il voto, e questo dipenderà moltissimo, lo sappiamo anche da quale sarà la legge elettorale. Conferma l'apertura nei confronti di quella mediazione Calderoli con quel, diciamo, voto premio di maggioranza variabile, chiamiamolo così per semplificare. Penso un po' che disponibilità abbiamo noi, che già siamo venuti via dalla nostra proposta. Doppio turno di collegio, che è l'unica serie per questo Paese, ma non abbiamo la maggioranza in Parlamento, non vogliamo il porcello. Discutiamo perfino, diciamo, di proposte che hanno quel protagonista. Naturalmente con qualche correzione, però, perché allo Stato puro quelle proposte non ci soddisfano. La correzione sta su un punto preciso che non riguarda il PD, ma l'Italia. Quella sera lì il mondo deve capire che c'è qualcuno in grado di organizzare un governo. Perché se il mondo capisce il contrario, andiamo incontro, secondo me, a dei guai seri. Non come PD, sto dicendo come Italia. Ecco, ma se non ci fosse, diciamo, una legge elettorale che consente poi il giorno dopo di avere una maggioranza definita, quale potrebbe essere l'alternativa? Tornare alle urne oppure un governo di grande coalizione? Ma non esiste nella situazione nuova, politica ed eventualmente condizionata da una legge elettorale seccamente proporzionale. Non esisterebbero condizioni di governissimo. Siamo in tutt'altro scenario. Chi pensa che da una situazione frammentata possa venire fuori un governo Monti, non fa i conti né con la politica né con la matematica. E quindi credo che bisogna ragionare invece sulla base dei dati che abbiamo alle mani e consentire non certo dei super premi di maggioranza, quello era il porcello, ma consentire che ci sia il primo che arriva che abbia la possibilità di organizzare in Parlamento un governo. Questo sì, con meno di questo credo che la situazione sia difficile da risolvere. Io però penso, mi auguro, che si stia ragionando in questo senso. Io sono, diciamo, non dirò ottimista, ma insomma penso che si possa arrivare a una soluzione in queste settimane. Senza, segretario, l'accordo sulla produttività senza la firma della Cigelle. Quanto peserà nelle aziende il nodo del più grande sindacato italiano? Ma guarda, io penso questo. È chiaro, quell'accordo tende ad estendere la contrattazione decentrata e questo certamente è un obiettivo che dobbiamo darci per le esigenze di produttività, di flessibilità del sistema. Dopodiché io aggiungo una cosa, ma com'è possibile immaginare al concreto nelle aziende un'estensione di questo meccanismo contrattuale senza dei meccanismi riconosciuti dai lavoratori come meccanismi di partecipazione, di rappresentanza, di rappresentatività? Questa è un'esigenza, non dico neanche di questo o quel sindacato, è un'esigenza del Paese e secondo me il Governo farebbe bene a continuare la discussione, forse quel tavolo non era il tavolo giusto per questa discussione, nelle prossime settimane perché è interesse del Paese che si risolve il problema della partecipazione dei lavoratori. Dopodiché se si affronta così il tema, io scommetterei quasi sul fatto che si possa anche ricomporre l'unità delle forze sociali e del mondo del lavoro. Ultima domanda con risposta telegrafica. Questa volta gliela posso chiedere perché è semplice la domanda. Ministro, sindaco o leader della minoranza del partito? Quale sarebbe il ruolo che potrebbe piacerle per Renzi? Poi naturalmente deciderà lui se non vincerà le primarie? Se Renzi non vincesse le primarie immagino che continuerebbe a fare il sindaco. Dopodiché noi l'anno prossimo abbiamo il congresso del Partito Democratico. Non so se ci si ricorda che anche lì ci sono le primarie. Io sono segretario attraverso delle primarie che hanno coinvolto alcuni milioni di cittadini. E quindi chi ha interesse a organizzare un'area, a candidarsi dentro al percorso congressuale, può farlo tranquillamente. Lasciamo i nostri iscritti e i cittadini a decidere la soluzione. Ecco, io vedo questo percorso. Grazie. Grazie.